Ciao, mi chiamo Simona e lavoro presso la concessionaria Reto Group. Oggi ti presento l'Audi A3 Sportback 2000 TVI, immatricolata l'anno 2006 con 185.000 km e 140 kW. L'auto nonostante sia usata è in ottime condizioni. Piccole imperfezioni verranno giustamente riparate dai nostri meccanici. Inoltre è dotata di cerchi in lega, è la classica autovettura sportiva ma a mio avviso ha anche una linea molto elegante ed è dotata di un ampio bagagliaio, chiaramente proporzionato alla grandezza dell'autovettura. Ora ti mostro il bagagliaio. Da come puoi notare il bagagliaio è molto ampio, largo e lungo. È chiaro che si può recuperare ulteriore spazio abbassando i sedili che sono retraibili. Ora te li mostro. Ecco. Ed è per questo che io ti invito ad andare a fare una prova su strada dell'autovettura perché io penso che ne valga la pena. Vieni con me. Eccomi qui, andiamo a fare una prova su strada dell'Audi A3. L'autovettura è dotata di multicomfort da ricordare come quasi ogni autovettura, l'airbag conducente, l'airbag passeggero e l'airbag laterale. Inoltre è dotata di interni in radica di noce, porta bevande, controllo automatico di stabilità, climatizzatore, lettore cd. La guida, nonostante la strada sia leggermente distestata e molto comoda, ha una buona tenuta di strada ed è per questo che io ti invito a venirci a trovare in concessionaria per una prova dell'autovettura. Ti ricordo che mi chiamo Simona, lavoro presso la concessionaria Perito Group. I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Il nostro numero è 0975 520 350. Ti aspetto in concessionaria, mi raccomando. Ciao!